I ginecologi curiosi anche quest'anno hanno fatto la loro squadra anche perché ricordiamoci sempre che la ginecologia nasce da una curiosità di fondo e andiamo a vedere quella che è la nostra squadra dove abbiamo speso praticamente tutti i crediti. Roberto Bolle come allenatore per avere una squadra più possibile tonica e quindi portiere della Juve Perin e Radunovic. Radunovic secondo me è un buon portiere a Bologna ha fatto schifo ma di base è un bel portiere. Difesa con Calabria, Quadrado, Danilo, Lucumi, Riccardo Rodriguez, Vasquez, Voivoda e Zappa Costa. Centrocampo pirotecnico con Luis Alberto, Moro, Indoe. Un'occasione per Pogba perché Pogba comunque per quanto abbia questa possibile squalifica sul gruppone? Noi ci crediamo, magari gliela tolgono. Salemeckers, Vlasic, Uea e Zaccagni. In attacco Bellotti, Castellanius, Giurice. Immobile che prendiamo regolarmente, Raspadori, Sanabri. Fantacalcio a 10 squadre, molto competenti, 500 crediti da spendere. Non è stato facile, è una squadra secondo me buona per le mie possibilità e le mie capacità di fare le aste. Le aste va più che bene, adesso cominciano tutti i problemi. Nel metterli in campo già da questa domenica con Lazio che va a giocare a Torino con la Juve e il derby. Inter Milan, non è facile.